Ben trovati con l'appuntamento settimanale dedicato alla rubrica nutrizione e benessere in compagnia del dottor Andrea Ricci, biologo nutrizionista, che oggi ci parlerà di un olio vegetale, l'olio di ricino. Allora dottore, quali sono le proprietà di quest'olio e poi come utilizzarlo? L'olio di ricino si ottiene dalla spremitura a freddo dei semi della pianta del ricino. È caratterizzato da un colore molto chiaro, quasi giallo paglierino, da un sapore molto sgradevole e da una grande viscosità. Proprio per questa viscosità viene molto utilizzato in vari tipi di industrie che vanno dalla meccanica, dalla farmaceutica e anche alimentare. La proprietà ovviamente per cui è più famosa è proprio la grande capacità lassativa. Questo deriva da fatto da, essendo composto essenzialmente da trigliceridi, in particolare dall'acido ricino oleico, che ha proprio questa caratteristica. Cioè dopo essere stato lavorato da alcuni enzimi pancreatici e gastrici, agisce a livello intestinale diminuendo quello che è l'assorbimento di acqua e di elettroliti, quindi favorendo la formazione di feci più liquide. Questo effetto lassativo è molto evidente, talmente drastico che oggi viene utilizzato poco per questa caratteristica, però viene spesso inserito come eccipiente all'interno di molti farmaci. Quando utilizzato invece viene spesso miscelato con succhi o spremute proprio per contrastare quel sapore sgradevole di cui dicevamo prima. Ovviamente per questa proprietà lassativa si potrebbe pensare che possa essere utilizzato anche a fini dimagranti. In realtà non è così perché seppur all'inizio del trattamento con l'olio di digino ci può essere una parziale perdita di peso, questo è dovuto essenzialmente a una perdita di acqua, mentre invece la massa grassa rimane completamente invariata. Altre proprietà di questo olio vegetale sono quelle anti-infiammatorie, che spesso è utilizzato come quadruante in terapie contro l'infiammazione delle ossa e dei muscoli, anche sotto forma di impacchi caldi da utilizzare per l'uso topico. Altre caratteristiche invece sono le attività antimicrobiche, quindi viene utilizzato anche per le micosi, oppure ha grandi proprietà cosmetiche perché nutre la pelle, è emoliente e quindi viene utilizzato anche per contrastare le verruche o i calli. Quindi diciamo che in cucina non è proprio indicato da utilizzare ma bensì bisogna utilizzarlo per altri trattamenti, ma ci sono anche delle controindicazioni? Sì, è sconsigliato l'utilizzo alle donne in gravidanza, seppur un tempo veniva utilizzato per indurre il travaglio e anche alle donne in allattamento. Ovviamente ad altri dosaggi può causare diarrea, vomito e quindi è anche controindicato a chi soffre di disturbi gastrici e intestinali. Poi quando utilizzato per uso topico, quindi come diciamo prima attraverso magari degli impacchi, può dare comunque luogo a delle irritazioni oppure a delle dermatiti. Grazie dottore per i preziosi consigli, grazie anche ai nostri telespettatori per l'attenzione e l'appuntamento con la rubrica nutrizione e benessere torna la prossima settimana. Grazie a tutti.